Ricci di mare e pesce sequestrati in tutta la Puglia scattano sanzioni per 120.000 euro. L'operazione è stata condotta dalla direzione marittima di Bari coordinata dal sesto centro di controllo per la pesca. Una task force di uomini e mezzi delle capitanerie di Porto Pugliesi hanno controllato punti di sbarco, centri di distribuzione, mercati ittici, ristoranti e pescherie. Un'operazione per contrastare la vendita di prodotti ittici da parte di venditori occasionali e la pesca abusiva esercitata da pescatori non professionali. Circa 10.000 ricci di mare e svariati chili di pesce sono stati sequestrati e multe elevate per un totale di 120.000 euro. In sei sono stati sorpresi a pescare nelle aree marine protette di Porto Cesario e Torreguaceto. Nella zona di Conversano sorpreso un commerciante a vendere tonno rosso spacciato per comune tonno pinna gialla peraltro già scatuto e quindi in idoneo al consumo umano. L'operazione segue un'intensa attività di controlli effettuati in mare e a terra, in particolare nel nord barese e nelle province di Foggia e Taranto, intesa alla repressione della pesca di Sarda e Alice, che ha visto il sequestro di notevoli quantitativi di prodotto e di reti irregolari, sempre a carico di pescatori abusivi.